Amici e amiche, senza sigla, perché è un'altra puntata di talk. Abbiamo fatto diverse puntate di talk, ma stasera, con il fatto che non siamo andati in onda, o oggi, per qualche imprevisto, approfittiamo a fare qualche puntata di talk. Oggi è Santa Maria e auguri a coloro che si chiamano Maria. Potrei canticchiare una canzone così. Oggi, oi Marie, oi Marie, quanta sonno va fatta per te, fama dormi, la tavola abbracciato con te, oi Marie, oi Marie, la tavola abbracciato con te, fama dormi, oi Marie, oi Marie. Bene, ieri sera ho fatto un complimento a un amico, vale a dire a Cesaino, che buono quanto Mitri ha nato Alessandro, più di quelle persone che ho frequentato prima che nascesse Mitri e prima di incontrare Cesare Carminati, Cesaino. Stasera ho difficoltà a cantare qualche canzone perché sono un po' stanco. E vorrei dire, prima di concludere, che stasera, 12 dicembre, inizia la nuova stagione, nonché la seconda serie, del talk show televisivo su rete 4, dritto e rovescio, con Paolo Del Debbio. Prima della trasmissione di Del Debbio, stiamo approfittando a svolgere questa puntata nostra di talk. Nei giorni scorsi abbiamo fatto qualche puntata extra giusto per divertirvi e distrarvi. La puntata extra, come ho già detto tante altre volte, tante altre volte, sta a significare, allora, la puntata extra, dicevo, sta a significare osservare i camion che transitano in autostrada sia sulla costa a nord che quella a sud. I camion che passano in autostrada. Tutto lì. Bene, amici e amiche, non restato che salutarvi e dandovi appuntamento a domani, se è possibile. Felice serata e notte per tutti quanti voi dal vostro mago con affetto. Grazie. Grazie.